Ivo Menna perché ha rivolto un appello ai parlamentari del territorio riguardo al dissesto sul costone orientale di Vasto e in altre zone della città? Ho rivolto un appello innanzitutto a Peppino Forte che è l'assessore responsabile di questa città dei lavori pubblici e dell'urbanistica e ho rivolto un appello a Peppino Forte affinché si faccia anche lui portatore presso i due deputati del Movimento 5 Stelle, Castaldi e la signora Grippa, affinché intervengano a favore di Vasto con provvedimenti urgenti in Parlamento, coinvolgendo governo, coinvolgendo protezione civile, coinvolgendo tutte quelle strutture istituzionali compresa la regione affinché si prenda finalmente a cuore quello che sta succedendo a Vasto. E che cosa sta succedendo a Vasto? A Vasto sta succedendo che da 20 anni il sottoscritta come ambientalista ha denunciato che non tutto il costone orientale sarebbe stato sensibile dopo i cambiamenti climatici, in seguito ai cambiamenti climatici chiedo scusa, a movimenti franosi. Tant'è vero che in questi giorni noi ci siamo accorti che su Via Adriatica, sul costone di Via Adriatica, uno scoscendimento piuttosto serio che sta preoccupando, che ha preoccupato, che continua a preoccupare tutta la popolazione residente non solo, ma anche le persone più accorte e sensibili di questa città. Perché questa città è vulnerabile storicamente dai movimenti franosi e dissesto. Io nel mio comunicato stampa ho elencato i punti salienti che vanno dalla loggia Ambling, e qui c'è un pericolo serio di loggia Ambling, perché c'è un abitato alle spalle di loggia Ambling che manifesta quotidianamente preoccupazione per le lesioni che si stanno determinando quotidianamente, allargando le fenditure dell'assetto stradale. Ma non solo, Via Adriatica lo conoscono tutti i vastesi e anche fuori di vasto, l'attenzione alla sensibilità verso la zona del Muro delle Lame. Non solo, ma stiamo parlando di Montevecchio. Nel nostro comunicato stampa abbiamo sottolineato come anche l'urbanizzazione selvaggia, la speculazione edilizia abbia insistito su Montevecchio e adesso ci troviamo con la zona di Via Vilignina completamente ostruita e chiusa dalle frane. Ma posso parlare di Punta Penna, posso parlare di Santa Lucia, di tutto il movimento di piccole frane, di cedimenti, di terreno. Quindi è estremamente preoccupante. A questo punto non solo le forze politiche, ma tutta la città deve partecipare, deve essere cosciente che noi siamo in presenza di sensibili frane, di cambiamenti climatici che purtroppo hanno determinato e continueranno a determinare scoscendimenti e frane. Quindi l'allarme che ho lanciato è un allarme serio, da 20 anni l'ho lanciato, ma sembra che le forze politiche, anche quelle di opposizioni nel parlamentino locale, stiano lì soltanto a blatterare, a chiacchierare di cose che non conosco nemmeno. Tanto è vero che non li ho mai visti fare una passeggiata, tutta l'opposizione e tutta la maggioranza, fare una passeggiata su Via Adriatica oppure sullo jumbling. Grazie a tutti.